Re Carlo ha un cancro al pancreas e gli rimangono sei mesi di vita. Andiamo ad analizzare questa notizia per capire se è una fake news o se è una notizia che merita l'attenzione che ultimamente sta ricevendo. Ci tengo a precisare che io per determinare se è una notizia una fake news o è una notizia vera, non faccio ricorso a nessun potere speciale. Diciamo che come diceva Gerry Scotti al milionario, la risposta sta già nella domanda. La risposta a questa news è una fake news sta già nella notizia stessa. Dunque, partiamo dall'inizio. Da dove parte questa notizia? A quanto pare è stata pubblicata in un giornale minore, in uno dei tanti tabloid, che manco cito perché un giornale che pubblica una notizia del genere manco si merita di essere citato. E comunque poi è stato seguito da altri giornali che l'hanno copiato. Evidentemente, in mancanza di notizie veritiere, c'è bisogno di ricorrere a questo. C'è chi si lamenta dell'intelligenza artificiale, ma a me viene da dire, se l'intelligenza umana produce queste cose, è normale che arrivato a un certo punto l'evoluzione dell'uomo ha bisogno di creare un'intelligenza superiore. Perché parlo di intelligenza artificiale? Aspettate qualche minuto e lo capirete. Allora, secondo questo giornale che pubblica questa notizia, un funzionario di corte ha origliato Camilla mentre si stava sfogando. Quindi noi ci dobbiamo immaginare anche questa scena di Camilla intanto che si sfoga, evidentemente a voce alta, mentre un funzionario, un cameriere, allora non si è capito che cosa, da dietro una tenda, da dietro una porta, mentre porta dei vassoi con delle stoviglie sporche nel corridoio, o qualcuno mentre stava pulendo il pavimento, non lo so. Ascolta gli sfoghi di questa aristocratica. Non si capisce se Camilla stava parlando da sola o stava parlando con qualcuno, ma mi piace immaginare Camilla così descritta come una vaiassa che si strappa le gonne in preda ai suoi attacchi d'ira, perché a quanto pare Camilla era furiosa per via del fatto che Harry ha utilizzato il cancro del padre per questo suo PR stunt, come si dice in inglese, no? Per essersi catapultato a Londra ed aver fatto parlare i giornali di sé. Il che confermerebbe essenzialmente l'immagine che Harry stesso in sperre ci offre di Camilla, molto gelosa e competitiva di quello che esce sui tabloid. Quindi, in preda a questo attacco d'ira, mentre evidentemente tirava i tacchi a spillo, si sfilava la parrucca e le sopracciglia finte, Camilla si è sfogata dicendo che essenzialmente il cancro di suo marito è dovuto a quello che gli ha causato il figlio, al fatto che il figlio si è sottratto ai doveri di Working Royal, se ne sia andato dall'altra parte dell'oceano e soprattutto non faccia più vedere i nipoti al nonno. Ora, in realtà, per essere onesto, il giornale non dice che questo funzionario di Buckingham Palace, questo addetto, abbia origliato, però vi volevo regalare questa immagine. In realtà, il giornale dice che essenzialmente questa persona abbia, in un certo senso, fomentato, probabilmente, chiacchierando con lei, che mi sembra un'immagine ancora più difficile, comunque sia, da creare nella mia mente. Non che Camilla parli con dei funzionari, ma piuttosto che Camilla si lasci andare in dettagli personali che non sa nessuno e sapendo il rischio che questi dettagli possano andare a finire nei giornali. Per questo dico che la risposta è già nella domanda. Cioè, semplicemente per il fatto stesso che poi questa persona, se ha poi parlato con qualcun altro, sapeva che era l'unica fonte, quindi si sarebbe praticamente autotradita e Camilla l'avrebbe saputo. Quindi mi sembra veramente difficile una cosa del genere. Nel giro di quattro anni questo avvenimento ha fatto sviluppare il cancro al pancreas a recarlo. Allora, dalle esperienze di ipnosi regressiva che sono state documentate, per esempio, nei libri di Dolores Cannon, che io cito sempre, soprattutto nei miei TikTok di spiritualità, qui tra l'altro mando avanti due rubriche sull'universo convoluto di Dolores Cannon, quindi chi volesse approfondire un po' ha gli elementi per farlo. Ci viene detto che effettivamente il dispiacere e soprattutto la rabbia può provocare il cancro all'intestino. Ma dubito fortemente che il tutto possa avvenire nel giro di quattro anni. È vero che cancri in questa area dello stomaco, dell'intestino, come viene riscontrato in sede di ipnosi regressiva, di analisi del subconscio, possono essere causati da rabbie, situazioni di nervosismo che vengono somatizzate, ma nel corso di anni e anni. Cioè, dubito fortemente che possano essere semplicemente quattro anni. Secondo poi, è molto difficile determinare quale sia la causa originaria di un cancro. Secondo questa fake news, sarebbe arrivata Camilla e avrebbe fatto la diagnosi estemporanea della situazione. Andando ad analizzare la questione da un punto di vista più scientifico, mi sono sentito di fare una sorta di investigazione e ho chiesto a ChatGPT. Perché questa fake news si basa essenzialmente sul fatto che noi non sappiamo, non ci è stato rivelato da Buckingham Palace, come è giusto che sia, di che natura è questo cancro, no? Dove è localizzato? E allora le persone si sentono libere di lavorare di fantasia, inventare ognuno la propria. Io, in corrispondenza di una persona che si inventa notizie false sul cancro di un'altra persona, ricorderei a questa persona che esiste il karma. E la butto là. Ma andiamo a vedere perché questa cosa del cancro al pancreas è molto inverosimile. Ho chiesto a ChatGPT è possibile scoprire un cancro al pancreas operando alla prostata? E ChatGPT mi ha detto che se fai delle analisi più approfondite e allora attraverso un'analisi del sangue si evincono dei risultati sospetti e successivamente il dottore esegue altre analisi è possibile arrivare al cancro al pancreas se c'è. Ma non è possibile essenzialmente operando alla prostata scoprire il cancro al pancreas. Per chi di voi avesse già visto il podcast qui su YouTube in cui analizzavo un'intervista ad un dottore americano fatta da Pierce Morgan che essenzialmente ipotizzava che il tipo di cancro trovato dai medici poteva essere cancro alla vescica sulla base del fatto che Re Carlo era stato mandato a casa. Però questa è ovviamente soltanto un'ipotesi di un medico esterno che non ha niente a che fare con Re Carlo. Allora mi è venuto da chiedere a ChatGPT a che c'ero? Un cancro alla vescica può essere trovato facendo un'operazione alla prostata? Non c'era bisogno di chiedere a ChatGPT perché già lo aveva detto il dottore, no? E poi anche intuitivamente la prostata e la vescica sono molto vicine uno apre e vede un po' tutto, no? Ma comunque sia giusto per levare qualsiasi dubbio ChatGPT dice sì, essenzialmente. Lo dice in una risposta di tre paragrafi ma essenzialmente dice che sì. A ciò si aggiunga un'altra fake news secondo cui Kate avrebbe donato un rene a Re Carlo. Non capisco sulla base di cosa non capisco se questa donazione secondo la logica di questa fake news avrebbe a che fare con lo stato di salute attuale di Re Carlo e ci muoviamo dalla prostata al rene ormai c'è questa situazione è paradossale è un... con la pasta che fa acqua da tutte le parti però io nel caso in cui non aveste sentito questa fake news sul rene di Kate ve lo anticipo è una fake news. Tra le altre cose Rishi Sunak si era lasciato scappare che il cancro è stato preso in tempo la regina se ne sta andando in vacanza non so se con o senza Re Carlo però se andasse con Re Carlo vorrebbe dire che Re Carlo è in condizioni di viaggiare quindi mi sembra difficile immaginare che è in fin di vita se andasse senza Re Carlo ancora peggio perché comunque sia se te ne vai e lasci tuo marito a casa mi viene difficile immaginare che tuo marito sia in fin di vita se no non lo farebbe non lo farebbe non tanto perché dico che lei è il tipo di persona che non lo farebbe perché non la conosco ma non lo farebbe perché verrebbe linciata dai sudditi quindi sulla base di quanto detto mi sembra evidente e ormai superfluo affermare che si tratta ovviamente di una fake news spero di essere stato convincente se questo video vi ha convinto lasciate un like un commento se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale e attivate la campanella ci vediamo alla prossima fake news vi mando come al solito i miei saluti reali